Stava dando di matto in strada a Larino contro la fidanzata. I carabinieri di passaggio sono intervenuti, ma la furia non si è placata. Fermarlo è stato difficile. L'uomo a 30 anni è stato arrestato. A uno dei carabinieri ha rotto un braccio. I fatti durante la nevicata, una lite furibonda tra i due fidanzati. Tutto accade nel giro di pochi minuti. I militari della compagnia di Larino, durante un servizio di perlustrazione del territorio, sono imbattuti in una spiacevole scena. La coppia stava litigando furiosamente l'intervento per evitare il peggio. I militari sono scesi dall'auto. Neppure il tempo di tentare una mera conciliazione che il giovane li ha aggrediti con violenza. Una furia cieca li ha colpiti ovunque. I due carabinieri a fatica sono riusciti a contattare la centrale operativa che subito ha inviato i rinforzi. Durante l'arrivo delle altre pattuglie, l'uomo ha danneggiato anche l'auto dell'arma. I militari in soccorso sono riusciti a bloccare il Trentenne. Lo hanno immobilizzato. Rottura di un braccio per un carabiniere con prognosi di oltre un mese e varie lesioni per l'altro. Quest'ultimo colpito all'addome. Ora l'aggressore è ai domiciliari, accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Già altre volte si era reso protagonista di aggressioni. Immediate anche le attestazioni di vicinanza da parte degli atti vertici dell'arma dei carabinieri. Ai due militari che con coraggio e abnegazione sono intervenuti per sidare la furibondalite riuscendo a evitare l'irreparabile.